Mercoledì 5 novembre il maltempo si abbatte sulla nostra città, viene attivata la nuova scala di allerta. Il sindaco invita la cittadinanza a registrarsi sul sito del comune per i nuovi servizi di allertamento della popolazione. Gravi danni in città, caduto un albero in via Ghibellina e un'altra palma a lungo la linea del tram sul viale San Martino. Tram fermo per alcune ore, traffico in tilt sull'autostrada Messina-Catania e crollo di un cornicione al Gran Camposanto. All'Ars inizia l'esame del piano sanitario per la rete ospedaliera. Questa settimana dovrebbe arrivare il parere sul documento che è frutto del lavoro di un anno e che a Messina ha portato al taglio di numerosi posti letto. Si blocca in città la raccolta dei rifiuti in attesa che arrivi l'ok della regione per scaricare a Catania.